Nel corso della nostra legislatura avevamo predisposto, programmato e previsto 13 posti di lungodegenza presso l'ospedale di Sant'Omero. Purtroppo questa giunta lenta e purtroppo inefficiente, soprattutto nel settore sanitario, da oltre 4 anni non predispone l'attivazione di questi posti e di questo reparto specifico. Nel novembre 2019 ho presentato un'interpellanza specifica, lì ci fu promesso che sarebbe stato attivato questo reparto, anzi intervennero diversi esponenti di centrodestra della provincia di Termo e della Vallata in maniera particolare per offendere come al solito, ma poi dopo 4 anni abbiamo visto il nulla. 4 anni di blocco, 4 anni di fermo, siamo a fine legislatura e il reparto di lungodegenza della Val Vibrata non si attiva e non si predispone al servizio di tutta la comunità della Val Vibrata e non solo. Ma questo succede per tutta la sanità in provincia di Termo, dove il centrodestra non si preoccupa né della sanità del centro hub di Termo e nemmeno soprattutto dei presidi di base di Giulianova, di Atri e soprattutto di Sant'Omero.